Allora, Sassuolo-Milan 3-3, risultato c'era dirlo, la difesa del Milan ha fatto cagare Io infatti dico, se a Roma giochiamo in questo modo, siamo fottuti, ve lo dico già Però, se il Milan comunque ci mette la grinta che ci ha messo più che altro nel secondo tempo Devo essere sincero, forse è una possibilità, non lo so, tutto in bilico Comunque, Milan-Sassuolo-Milan 3-3, un 3-3, se posso dirvelo ragazzi, anche molto bugiardo Perché sincero, abbiamo fatto delle cagate in difesa assurde Pinamonti ha fatto un rigore sul movimento dopo che Tio e Florenzi sono rimasti lì a guardare come dei baccalà Love to cheek pure, cioè quel poverino di Adli ha fatto gli straordinari Non solo è stato straordinario oggi, voto 7 Adli, come la sua maglia Per il resto ha fatto gli straordinari il povero Yasin Cioè, era dappertutto Una cosa che mi stupisce è perché Benazer non è entrato Ma vabbè, pazienza, pazienza Allora, diciamo, partita fatta benissimo in attacco Anche se ci siamo mangiati molti gol Però, quando ce li mangiamo, sinceramente ragazzi, non è sempre colpa del Milan È anche colpa a volte Omeido, del portiere adversario Consiglio Ha fatto una gran bella partita Cioè, stavolta, parliamoci chiaro, non è colpa del Milan Se non abbiamo vinto, ma pareggiato Cioè, con tutte le parate che ha fatto consigli è già tanto 3-3 Per la prima volta sono contento Perché ho imparato dall'amara Ho imparato dall'amarissima lezione contro il Monza Che tu hai pareggiato finalmente 2-2 Invece di provare a vincerla come abbiamo fatto qua Ma sempre chiusi in modo che mal che vale il pareggio ci accontentiamo Tu ti sei aperto come un cretino con il Monza 4-2 il risultato finale Invece qui, sei rimasto chiuso Hai cercato di vincere e avresti pure meritato Però, purtroppo, Altimirapoli aveva in mano consigli Ma vabbè, e l'hai pareggiata Non è un risultato positivo, ma neanche negativo È un risultato neutrale Perché col pari sei più 6 sulla Juventus Cioè, hai mantenuto... Mo' andremo probabilmente Juve-Milan a più 3 Se perdiamo, perché io non ho fiducia nella mia squadra Se perdiamo il derby Andremo a più 3 contro la Juve Possiamo tornare a più 6 Quindi c'è, raga, tutto quello che vogliamo Ma possiamo comunque giocarci il secondo posto Che vorrebbe dire Supercoppa Italiana Perché sarà quello l'unico trofeo l'anno prossimo a cui ambiamo Ascoltate le parole di Matteo Grazie, Phil Eh, purtroppo è così, ragazzi Sarà quello l'unico trofeo a cui ambiamo l'anno prossimo E adesso devono... Eh, e farete meglio a vincerlo contro l'Inter in finale Chiaro? Mmm, testa di cazzo Eh, andiamo avanti Approvo Grande, andiamo avanti Allora, le pagelle veloci Sportiello 5 e mezzo Perché il primo gol non è colpa tua Il secondo potevi trattenerla un po' di più Ma vabbè, il terzo sì Perché tu con la mano la spingi dentro Cioè, 5 e mezzo Purtroppo è insufficiente Però un bravo portiere, sei Stavolta ho capitato Ti ho il peggiore 3 Chiaro 4 e mezzo I comparielli scemi Sembrava testaglio e olio in difesa Veramente Siete staglio e olio Stupido Eh, che ne so Chiaro a terra Mentre invece ti ho Ad esempio, sul secondo gol No, sul terzo gol Non... Di Lauriente Sì, sì Non chiude su un Quello là, su un laterale del Sassuolo Ma non ricordo Chiaro che vede la palla Il tiro arrivare E lui non può fare nulla in quel caso Sul terzo gol Perché si trova in quel istante Dal tirato dall'Oriente E urla lontana Tio Sei sempre il solito Stupido Così, me ne immagino In campo Sei sempre il solito Stupido Una citazione anni trenta Eh, veramente Guarda Entra Gabbia Tomori ci sarà nel derby Ti ho squalificato Per fortuna Giocheranno Tomori e Gabbia Forse il derby Maronna Tomo Ficaio Mantieniti sano La Roma ci serve Ma anche con il derby Per favore Ficaio Sei l'unico In grado di contrastare l'Inter Tomori è l'unica garanzia Perché Calulu si è fatto male Eh, Calulu Quanto è brutto Tu infortunio Con te Con te Con Tomori E te Avevamo una minima speranza Oh, il Milan Solo 3 a 2 Milan Inter Ha giocato con Tomori E Calulu Perché la Supercoppa La giocavamo con Chier E Tomori La perdemmo E poi Calulu E gli altri Non hanno mai È vero Tomori e Calulu Non hanno giocato un derby Insieme Da tantissimo tempo Comunque Tornando Alla partita Allora Tornando alla partita Allora Scusatemi Allora Ho diviegato troppo Allora I Florenzi 4 Stasera Hai fatto veramente Cioè oggi un ministro Hai fatto veramente male Spizzi Con la Roma Vedi di fare bene Vedi di fare bene Contro la Roma Ti aspettiamo Florenzi Ah Florenzi Ricordati Devi far vincere il Milan Ricordati Cretinoide Che la Roma Non è più la tua squadra Ora siamo noi Perché giochi per il Milan Sì lo so che sei romanista Ma il Milan È prima di tutto per te Che sei un tesserato O comunque Ma non ti faccio pericare a te Meglio lasciar perdere Voto 4 oggi Teo Teo Hernandez Sì sì Voto 6 più Dai Hai fatto bene oggi Non tantissimo Ma più che sufficiente Mil gol Maronna Se hai facevi i gol Ti davo anche 7 Rainde No Scusate Adli 7 Tu assieme alleao I migliori della partita Sei un grande Yasin Un grande Musa 6 e mezzo Cacchio Yunus Peccato Potevi il gol Te lo meritavi Ma cazzo Sei velocissimo Nel derby Ti prego Pioli Metti Musa Ti prego Poi Non fa niente Metti Simic Se va Fallo provare A quel povero ragazzo Allora Dicevamo Tipo Simic Secondo me Comunque ve lo dico Più forte Secondo me Rispetto a Bisse Quello Simic Perché Simic È molto più forte Grazie a lui Mian L'anno scorso Ha vinto la Yacht League Comunque Dicevamo Allora Dove cazzo eravamo Ah sì sì Poi Loftus Chick 5 e mezzo Hai fatto delle belle cose Sei in ripresa Speriamo che contro la Roma Sarai migliore Perché stasera Oggi pomeriggio Volevo dire È un 5 e mezzo Non è stato proprio il top Andiamo In Rainders Entrato 6 e mezzo Si è vista Tijami A differenza con te Veramente Poi chi ci sta più Allora Leao 8 meno Il migliore della partita Ma alcune cose Potevi aggiustare Però Raffael Si vede che tu Con la Roma Ti hanno solo E basta questa storia Non sei un top player No Tu sei un top player È la Roma Che è un'ottima squadra E la gente Non lo vuole ammettere Ti hanno fermato Perché hanno meritato Tu sei un top giocatore Cioè Se ad esempio a Roma Il Milan Fermasse di Bala Vuol dire che è un bidone No Lo giocheremo bene Se facciamo coni in quel caso Capito I giocatori rimangono buoni Dipende solo dalla giornata In cui stanno O da come gioca la squadra avversaria Leao 8 meno Grande Raffael Sei grande Senza contare Che non hanno neanche stato Tutti i tuoi assist Quindi lasciamo stare Allora Ciucu Eze Samuel Sei sfortunato 7 Mannaccia Uno di tuoi gol Almeno era regolare Cioè Due annullati Tra cui uno almeno regolare Bastardo Veramente Massa Massa Sei un figlio di puttana Grande Samuel 7 Pioli Mettilo contro la Roma O almeno falla entrare subito Nel secondo tempo Un messaggio duro a Pioli Pioli Voto 5 oggi E ringrazia che non è il 3 della Roma Ringrazia Giovic Maronna Luca Il primo gol da titolare No Il gran seriano In Coppa Italia Luca Il salvatore della patria Hai fatto certe giocate Incredibili oggi L'attaccante Cioè Giroud Ha sbagliato L'insbagliabile oggi Come con la Roma Pioli Pioli Fai giocare Giovi C'è bravo Luca Ocaforro Giovi C'è entrambi in gol Noa ha avuto 6 e mezzo Perché Non è fatto tanto Ma intanto in 10 Cioè Filì In 15 minuti di gioco Noa ha fatto un gol È già il quinto Che fai da subentrato Il sesto in totale In Serie A Cioè I 6 gol Hai fatto in poche partite Hai fatto già 5 gol da subentrato E uno da titolare Con Con la Cagliari Cioè Ma porca puttana Noa Sei eccezionale Cazzarola Pulisic Sei più Ci hai provato Cristian Ma la squadra Non ha messo dentro I tuoi assist Peccato Sono veramente bravo Anche tu Ho la testa alla Roma Bene il video è finito Lasciate un like E arrivederci Grazie Ciao anche da Retrofil Ciao a tutti Ciao a tutti